It's coming gold! It's coming gold! Hai vinto! Di nuovo! Cosa ha vinto davvero stavolta? L'ho capito! L'ho capito! Forse si! L'ho capito! Guarda che scimmia! Vi ha vinto! Guarda che prende la stessa! Guarda che cazzo! 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 Cazzo! Campioni d'Europa! Campioni! I baristi provano a portare via le serie prima che le ruffano Qua i baristi come porta via! Guarda che si abbraccia! Non si conoscono! Ma questa è la forza del calcio! Questa è la forza dell'Italia! Questa è la forza dell'Italia! Oระ pieza del calcio! Nu e due! ica o이라고 e abbiamo prezziato! посмотрito! O Administratoria! Guarda che cazzo si che ha fatto! Guarda che ormaiление! Guarda cheverno l'uomo! Guarda che fanno! Guarda che cordon이가 l Le right- holistic! Sapp lasciano che quella maschina di mutterà, la testa fa oh la gente la gente coi in testa tutti infazziti tutti infazziti vai vabbè vai grazie a tutti papo 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 let's go vabbè tante di foglie a scadire papo 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 l'italia l'italia sedenza vediamo il ciclo se città la testa dov'è la vittoria che che porca di roma il dio la il ciclo il ciclo il ciclo il ciclo l'italia ti grazie 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 attenzione il traffico è bloccato attenzione questo è un po' grave però va bene così un po' meglio già più accetto la situazione scusi forza Italia forza Italia forza Italia forza Italia forza Italia forza Italia bravo bravo anche se siamo albanesi forza Italia bravo mamma mia che contenuto comunque guardate quello Gesù Cristo in croce e poi Gesù Cristo forza Italia forza Italia forza Italia guardate che bordello guardate che bordello guardate che bordello guarda il vento la bandiera guarda che bordello mamma mia mamma mia forza Italia guardateli in faccia polizia denunciateli no no guardate qualsiasi guardate roba guardate roba eeeh il bengala guarda che bordello sono siamo noi siamo noi Siamo noi, i campioni dell'Europa siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Europa siamo noi. Non ce n'è Covid. Grazie, grazie. Forza Italia! Forza Italia! Grazie, fammi dirlo qua sempre. Grazie! 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 Sì! Grazie! Fate la sub, fate la sub! Bravo! Bravo! Grazie, grazie ragazzi, grazie. Ricchissime. Questa è la sua. Ci buttiamo qua, diamo un po' a vedere. Dicca! Dicca! Dicca, va con la seconda. Dicca, dico qua. Dicca, dico qua. Dico qua, dico qua. Dico qua, dico qua. Lascia il caldo. Guarda, guarda. La gente che sceglie. Guarda, che roba. Dicca, cazzo, ma non si vergogna. Vai, ricchia. Guarda, che roba. Guardate, è lì. Guarda, guardate. E' il caldo. Tutto un delirio. Mamma mia. Che roba. Guarda. Tutto un delirio, tutto un delirio. Invece, tutto il fumo. Sì, sono attiso a fare pure. Grazie, grazie mille. Continua così. Andiamo! 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 Andiamo noi, campione d'Europa! Grazie, grazie, grazie. Andiamo noi! Grazie. Andiamo noi, campione d'Europa! ma siamo noi, Italia, Italia che casino che c'è, mai vista la palla così mai vista, mamma mia, che bibbia stiamo a sospettare un po' dopo, non puoi vedere ragazzi, grandissima partita, numero uno d'Italia, dobbiamo vincere anche il Dei con una portata eccezionale, vi lascio la parola agli altri spettatori, arrivederci grandissimo davanti alle mafie secondo lei l'Italia vincerà? vincerà 2-1 è vero, l'avevi detto, è bravo cosa le dico io tre giorni fa, 2-1 complimenti guarda i grandi su il tetto, su il tetto dell'auto guarda che roba twitch vai, vanno due vai, grazie, grazie va bene, va bene così va bene così assurdo, assurdo comunque incolliamo il camion se ci vado perdo una scarpa guarda minchia guarda che roba guarda che roba assurdo assurdo pazzesco guarda quanta tifoseria vincia quasi quasi ci salgo poi poi ci salgo dove porterà sto camion secondo voi assurdo guarda che guerra fantastico straordinario straordinario guarda che roba tutti i tifosi assurdo assurdo bravo bravo cazzo che grande ce l'abbiamo fatta signor guarda che ci abbiamo fatta guarda che guarda che siamo noi siamo noi siamo noi tanto camion credibile abbiamo vinto si sono due camion abbiamo vinto gli europei abbracciato 不能 4 è arrivato no non è arrivato non sono già speruti non è arrivato non è arrivato non è arrivato a farire è arrivato ma va 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 si vede quello è il saluto romano vuole dire qualcosa siamo felicesse grazie Lille gentilissima ho perso vai ho perso il massone questo è un'alto camion ancora questo un'alto camion ancora mamma mia assurdo abbiamo vinto abbiamo vinto i negli hanno sbagliato ogni calcio di rigore sigail sigail 88 88 marco verdi uè porco diavolo questo era vicino inglesi 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 bionegro bionegro siamo i campioni campioni grazie grazie per questo me li faccio ciao 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 chiamma 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 красивo – Cl medium skagli – ahhhh ch***a 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 uno di noi f***a pitcher uno di noi Uno di noi, il primo gioco Roberto Mancini Roberto Mancini Roberto Mancini Roberto Mancini Roberto Mancini Sì, sì Sì E si gode Quanto è contento invece lei La palla due della vittoria dell'Italia Moltissimo, moltissimo Andiamo Gigio, ti amiamo Forza Gigio Forza Gigio Ma sei là su Twitch? Sì, sì Twitch, youtuber, a palla due Posso dire, posso dire la cosa No, non puoi dire Sì Grande Grande Con culo la droga Sì, a palla due Sì Brava ragazzi Grazie, grazie mille Quando è imbroccato un altro? A palla buonasera Vorrei fare un saluto A Cinzia Ciao Cinzia Ciao Ci Waspär Mi almeno Che ero Mi almeno Mi almeno Da In Italia In Italia E in Italia In Italia In Italia E nella un po' vedere meglio sei cazzo vado a vincere grande la pallo 2 grande seguitelo tutti vai grazie ciao ciao fai l'intervista a Ivo il crepettario Ivo il crepettario la creperia da Ivo vai c'è il bico d'oro va bene va bene grande la pallo 2 una dichiarazione da fare per gli amici di la pallo 2 viva il calcio eo eo io cane se odio il calcio odio l'italia ma quel titizio la è passato è il grande la pallo 2 la pallo 2 è il migliore vai così cazzo vai vai è passato quella macchina nuova ci fa oh no è una macchina nuova è tutta rotta guardate il video prima era tutta rotta allora ragazzi divino mamma mia no dai dai porca troia dai facciaggio ragazzi allora allora sono l'italiano la cosa che mi piace di più di questa cosa sono il ragazzi Fuori di tosta Sei un pazzo L qua bisogna approcciare Porco di L Non farmi fare queste cose L ma quanto cazzo hai urlato Sei una spugna Sei una spugna Una spugna bene si Però a urlare Mi dà un po' a muoio Arrivo in Inghilterra Elisabetta Non minchino Igor ma sei un pazzo Allora le cose vanno dette come stavano Igor sei un pazzo Grazie carissimo grazie Il comit va a fai Il comit va a calcura Bravo fai come la massa Fai come la massa Senti qua quanto pesce Dai lanci No no Igor no 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 Ma mi fai un pazzo Mi fai un pazzo Guarda i pesci della partita di oggi Penso che è stata una partita molto difficile Molto sofferta Ma innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi A Bernardeschi che ha provato la giocata Bisogna complimentarsi con anche gli avversari Perché per quanto sia stata una partita Appunto difficile Bisogna dargli il merito Però l'Italia è l'Italia ragazzi Hai mai dubitato che l'Italia perdesse durante questa partita? Assolutamente sì Quando? Quando abbiamo subito il primo gol È stata dura Abbiamo sofferto tanto Ma lo spirito ci ha portato a vincerla La mossa che ti è piaciuta di più? Eh chiaramente Chiaramente mi è piaciuta di più Un tiraggiro Di insignia anche se non è finito in rete È stato Ci è andato vicino su punizione Ha fatto un bel tiro Peccato peccato Perché potevamo vincerla subito Però Cosa vuoi dire agli inglesi? Eh Guys I'm sorry for you But He's coming home And not He's coming home Sorry bro Va bene Grazie mille Alla prossima Alla prossima Elisabetta Elisabetta Vaffanculo Cosa ne pensi della partita? È una partita molto difficile Ma alla fine Siamo riusciti a primeggiare Quindi è questo l'importante Il tuo giocatore preferito Durante questa partita Italiano? Donna Rumma Senza pensarci un attimo Ha fatto la parata finale Che ci ha permesso Di arrivare a questo traguardo Il tuo gol preferito? Eh? Il gol preferito? Ah è quello di Bonucci Ovviamente Quello lì in finale Va bene Grazie mille Ciao caro Igor ma te non hai peni sulla lingua No Vorrei salutare Casca Chissà sicuramente Vorranno la parola di Dio Porco Dio Porco Dio Porco Dio Porco Dio Allora porca Madonna Di mecchia che più bello Vittoria 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti